E' sposata? No, però è stata fidanzata. Ma non ha funzionato e mi preoccupa. Lavora la notte. Ti ci piace lo zucchero? Sì, grazie, uno. Fallo raso, per questo mi sento responsabile per lei. Capisci? Ha soltanto un paio d'anni più di me. E noi ceniamo insieme ogni mercoledì, una volta da lei e l'altra da me. Ogni mercoledì? Ogni mercoledì. Sconvolgi la tua vita, fallo di giovedì. Oh, no, 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 di giovedì non potrei farlo. Ho il bridge con i colleghi d'ufficio. Wow! Do a quello che mi ha detto il dottore. Forse ha ragione lui. In fin dei conti è lui l'esperto. Succede spesso che il male non è esattamente nello stesso punto dove si sente il dolore. Capisci cosa voglio dire? Cos'era quel rumore? Quale rumore? Un rumore così. Ti giuro che l'ho sentito. Ah, quello, dei bacetti per te. Tu hai bevuto, George? Sto benissimo, Ellen. Stai tranquilla, stai tranquilla, benissimo. Buonanotte e sogni d'oro. Spero senza dolori. Spero senza dolori. Buonanotte, Ellen. Il suo unico problema è che è gelosa. Non lo è affatto. Oh, tremo al pensiero che possa mettermi fra voi tre. Noi tre chi? Tu, lei e il telefono. Dovresti dirle francamente. E c'è una che vive con me. Se non ti piace, datti una chiodata. Ma non ne sei capace. No, non ha accennato a nulla al telefono. No, forse ti voleva parlare della sua cistifelia. Elena, la cistifella è che funziona perfettamente e lo sai. È l'ultima cosa che le resta sana. Di un po', quando ha finito tutte le sue parti del corpo, che fa? Ricomincia da capo? È un'ipocondria che è pesante da digerire. Ma è mia sorella. E la ricordo ancora quando non era così... folle o irragionevole o insopportabile. E vedi, se tanto tanto posso renderle la vita un po' meno intollerabile, con qualche piccolo sacrificio da parte mia, perché non dovrei? Vedi, noi vecchietti crediamo ancora in cose come lealtà e... considerazione in questo marcio mondo e... responsabilità.